Questa domenica alla BCC Arena sarà protagonista alla musica. Kurt Cobain e i suoi Nirvana sono conosciutissimi in tutto il mondo e anche da noi. Abbiamo deciso di omaggiarlo, noi ma soprattutto ha deciso di omaggiarlo Will Ant, batterista degli Evanescence e anche di Vasco. Porta all'Arena questo suo tributo a Kurt Cobain e a Nirvana, ma che noi abbiamo arricchito con una sorta di storia del rock per omaggiare appunto Kurt Cobain nel venticinquesimo anno della sua scomparsa. Dettagli su questa serata per gli amanti del rock e della musica in generale? Prima di lui abbiamo alcuni che proporranno dei pezzi originali, fanno un omaggio a una cosa già gestita, già famosa per ricordarlo. Poi abbiamo il Bassoventre per dire che sono un gruppo di Pesaro che presenterà qualche pezzo. Poi ci sono i Crotolo Company che stanno costruendo in giro per l'Italia una storia del rock, omaggiando tutti i capisaldi dai Deep Purple e Zeppelin con interpreti che vengono un po' da tutta Italia. In questo caso avremo uno speciale sull'ICDC, c'è un interprete che lo chiamano in tutta Europa, perché ricordo molto Brian Johnson dell'ICDC e probabilmente forse Wilante farà una gemma anche con noi. Poi ci saranno altre realtà che stiamo inserendo prima del momento del concerto di Wilante. Insomma, grande musica e grande serata. Sì, tutta una serata tutta dedicata al rock. Sì, tutta una serata tutta. Sì, tutta una serata tutta. Grazie a tutti.